Ancora incidenti mortali sulle strade della Romagna. Questa mattina a Bellari Giammarino uno scuterista è deceduto dopo uno scontro con una vettura. Il fatto è accaduto attorno alle 8.30 in via Ravenna. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, pare che lo scuterista, un albanese di 37 anni residente a Bellaria, a bordo di una hamacca X Max 250, stesse percorrendo la carreggiata in direzione Ancona quando si è trovato davanti una Passat familiare guidata da un italiano residente anche lui a Bellaria. La vettura non avrebbe rispettato la precedenza e ha svoltato a sinistra, trovandosi improvvisamente davanti allo scooter. Lo scuterista a sua volta ha cercato disperatamente di frenare, ma è comunque andato a sbattere violentemente contro la fiancata a destra della Passat. Durante l'impatto, l'albanese avrebbe perso il casco prima di cadere a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medicalizzata. Nonostante i disperati tentativi di rianimare il 37enne sul posto, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto dopo qualche minuto. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di legge.